Giulia Cattomonticone in versione capitano quest'oggi dopo i tre singoli a 3 a 0 per inasco, quindi meglio di così non poteva andare. Esatto, è stato sicuramente un ottimo inizio, capitano, vice capitana, insomma la nostra capitana cerca di aiutare un po' tutti, quindi movimento sui campi, io come tutte le altre cerchiamo di dare una mano, quindi ci aiutiamo a vicenda, giocatrici, capitani e tutti, quindi siamo molto felici di come abbiamo iniziato. Sono state tre partite abbastanza toste, è appena finita la partita della Pairone contro la Giovine, è stata una partita lottata, ma molto bene, tutte buone sensazioni, quindi buon feeling per tutti, quindi si spera che sia un anno buono per la Serie A. Aspettative? Noi sicuramente ci piacerebbe puntare ai play-off, cioè quello sicuramente è l'obiettivo. Siamo una squadra sempre molto unita, molto completa, quest'anno rafforzata la squadra c'è una straniera che è la Bara e un vivaio che è la Pairone, che è appena finito il college e è tornata a casa per fortuna e quindi rafforza il nostro vivaio e quindi un valore aggiunto, un valore in più e siamo molto felici. La mia stagione è stata un po' complicata, iniziando dal Covid a inizio anno che non mi ha permesso di andare in Australia, poi ho riniziato poco per volta perché ho avuto degli strascichi dovuti al Covid, poi dopo un paio di mesi mi sono fatta male al posto e sono stata ferma due o tre mesi, quindi diciamo un anno non anno perché ho giocato veramente poco e adesso cercherò di giocare di più in fine dell'anno. Ultima battuta, tu hai nell'anno in cui Serena Williams si ritira forse? Forse, in teoria no, la parola di tia non è stata pronunciata. Non è ancora stato menzionato, però tu hai avuto il privilegio e anche la fortuna di affrontarla forse in uno dei più grandi tempi di Wimbledon, cioè Wimbledon, come è stata quell'esperienza? Esatto, esatto. Qualificata anche a Wimbledon dopo tanti sacrifici, mezza infortunata, quindi è stato fantastico e quando ho scoperto di essere stata solteggiata contro Serena ero l'unica felice del team, però sono stata felicissima perché insomma è stato anche, io l'ho vissuto molto come premio alla mia carriera, ai miei sforzi fatti precedentemente, quindi felicissima, mi ha dato questa opportunità di entrare in campo, in uno dei campi più importanti al mondo e quindi sarà un ricordo indelebile nella mia vita sicuramente.